Per esempio, parlavamo, chiedo scusa ma sono stato costretto a spezzare il video in due parti, dicevo per esempio sui 690 religiosi della diocesi di Ulm Peplin 518 sono arrestati, 214 condannati a morte. I prigionieri politici di questa regione sono concentrati in un campo a Soldavo e sono messi a morte, con metodi vari, su ordine di Heydrich. Più spesso la Gestapo applica a questi prigionieri il cosiddetto trattamento speciale, la Sonderhandlung, formula ufficiale traducibile con abbattuto nel corso di un tentativo di evasione. Più di 600 intellettuali polacchi muoiono così a Soldavo. Fin dal 27 settembre 1939 Heydrich può fare questo bilancio dell'azione dell'Sd in Polonia. Nei territori da noi occupati l'élite polacca è stata ridotta al 3% circa, ovvero sia il 97% dell'élite intellettuale, imprenditoriale e religiosa polacca sterminata. A questi delitti commessi dalle SD si aggiungono d'altronde quelli innumerevoli operati dalle milizie costituite da elementi estremisti provenienti dalle comunità tedesche residenti in Polonia, comandate a Danzica dal Goleiter Förster e nella Prussia occidentale dall'Uberfuhrer SS Ludolf von Alvensleben. Tutto questo sembra poca cosa agli occhi di Himmler, il quale ritiene che il numero dei polacchi liquidato sia troppo modesto. Alla faccia del cazzo, se mi è concesso dire. Vabbè. Il Rexfuhrer SS invia dunque in Polonia, verso la metà di settembre 1939, un commando SS supplementare, la cui direzione viene assunta dall'Obergruppenführer Udon von Woirisch. Questo commando ha come compito l'eliminazione degli ebrei e dei polacchi nel settore di Katowice. Heydrich informa il capo di stato maggiore tedesco in Polonia, Eduard Wagner, che la politica SS in Polonia è entrata in una nuova fase, con l'azione del commando Woirisch. I 500.000 ebrei stabiliti ad Anzica, nella Prussia occidentale, in Posnania e nella Sleggia superiore dovranno essere concentrati nei ghetti polacchi per essere in un secondo tempo deportati oltre mare. È il periodo in cui Adolf Eichmann, ricordiamocelo, è continuamente alla ricerca di una nuova patria per gli ebrei d'Europa. È il periodo in cui un certo numero di ebrei collaborano in Polonia con le SS nel cosiddetto servizio d'ordine. Fatto questo che potrebbe spiegarne l'impunità dopo la guerra di uomini quali il medico torturatore Mengele. Come vedremo, insomma come parleranno nell'ultimo capitolo di quest'opera. Verso la metà di ottobre Hitler espone a Keitel quello che il generale Halder ha definito in seguito il piano diabolico per la Polonia. Allora, Hitler dice che il livello di vita deve essere ridotto in Polonia in modo drastico e non deve oltrepassare quello che è strettamente necessario affinché la gente non muoia di fame. Ci sarà una lotta accanita condotta con metodi incompatibili con i principi ai quali del resto aderiamo. All'inizio del dicembre 1939 la Polonia sprofonda nel caos. Mentre fa cacciare gli ebrei polacchi nei ghetti, Heydrich fa trasferire i polacchi dell'Ovest all'Est verso i campi di concentramento aperti nel governatorato generale. Himmler contemporaneamente fa trasferire verso l'Ovest nelle nuove province tedesche create nell'ex territorio polacco, Gau, Danzig, Westprussen, Gau, Warteland, Gau, Oberschlesien, tutti gli abitanti di razza germanica dell'ex Polonia, compresi quelli che vivevano nella zona occupata dai russi in accordo con i tedeschi, l'ingegneria etnica che tanto stava a cuore all'SS. Intanto Hans Frank, uno dei più vecchi compagni di Hitler, è nominato governatore generale a Varsavia ed è costretto a chiedere a Berlino 40.000 funzionari in più per cercare di portare un po' d'ordine nel suo governatorato. Intanto i crimini dell'Ordine Nero sono di una tale ampiezza da far mormorare di nuovo l'esercito. Il generale Johannes Blaskowitz scrive un nuovo rapporto a Hitler. Questa situazione compromette l'ordine e la disciplina. È necessario che le esecuzioni sommarie vengono proibite immediatamente. Il generale von Reichenau, pur fedele seguace di Hitler, protesta anche lui contro l'SS. Hans Frank si unisce a modo suo alle proteste, egli si lamenta con Bormann dei fatti accaduti e chiede che se ne parli a Hitler. Sarebbe assurdo se io volessi affliggere un manifesto ogni volta che sette polacchi sono fucilati, tutte le foreste della Polonia non basterebbero a fornire la carta necessaria. L'ammiraglio Canaris, e ne abbiamo parlato già qualche volta, attizza il fuoco che cova sotto le ceneri e il generale von Rundstedt, amministratore militare della zona occupata dalla Wehrmacht, rassicura i polacchi che la Wehrmacht non considera la popolazione civile come sua nemica e che essa è là per salvaguardare i beni della gente e il loro diritto a disporne. Il malcontento dei militari si fa mano a mano più grande in proporzione al moltiplicarsi dei crimini. A Berlino cresce la tensione. Sotto la spinta di Canaris e del colonnello Oster, gli ufficiali dello stato maggiore della Wehrmacht chiedono lo scioglimento immediato delle formazioni nere e la destituzione dei capi SS affinché cessi una situazione che disonora il popolo tedesco. Insomma, ma Hitler reagisce a suo modo e gli informa ai generali della Wehrmacht che l'ordine nero non solo proseguirà ma intensificherà l'azione di repressione. La nostra lotta non può preoccuparsi di concetti come quelli di illegalità e illegalità. In questo caso specifico i nostri metodi debbono contrastare con i nostri principi, evitare che una nuova intelligenza polacca accede al potere, ripulire il Grande Reich dalla canaglia ebraica e polacca. Insomma, siamo stati abbastanza chiari, abbastanza esaustivi. Ci sono anche le dichiarazioni di Himmler ancora che il 7 settembre 1940 Hitler riconosce i delitti di genocidio compiuti in Polonia nel corso di una conferenza tenuta a Metz alle Waffen SS della Leibstandard SS Adolf Hitler. «Non si tratta di magia nera, dice Himmler, ma di quando si possiede una volontà superiore, quando si ha il fuoco sacro che deve bruciare nel cuore di una SS e quando si applica tutta la propria volontà allora bisogna riuscire. Mie SS, continua Himmler, ve ne do la certezza, perché noi siamo tutti delle SS. Io sono innanzitutto una SS e solo dopo il Reichsführer. È assolutamente necessario che voi difendiate tutti coloro che indossano la divisa nera o verde. Si tratti della SS di una piccola città sassone o di un membro della Gestapo o di un ufficiale della polizia. Le cose vanno diversamente quando ci troviamo tra noi. Possiamo allora esercitare la nostra critica. Così, in Polonia, quando le truppe hanno lasciato il paese, i polacchi non hanno guardato con molta simpatia. Bisogna riconoscerlo con tutta franchezza. Queste sono cose che non è possibile portare a conoscenza del grande pubblico. In certi luoghi si sono verificate a volte delle vere e proprie guerriglie, che sono state molto più dolorose che non la lotta propriamente detta. È stato allora che abbiamo avuto bisogno di truppe, di formazioni e di gente con una certa preparazione ideologica per dominare i paesi occupati, esattamente come in cecoslovacchia. «Desidero spiegarvi, continua Himmler, che qualcosa a proposito delle deportazioni che hanno avuto luogo in Polonia, a una temperatura di 40 sotto zero. Abbiamo dovuto deportare migliaia e centinaia di migliaia di polacchi. Abbiamo dovuto essere duri. È necessario che voi sappiate queste cose ed è altrettanto necessario che voi le dimentichiate. Abbiamo avuto la durezza di fucilare migliaia di dirigenti polacchi. Abbiamo dovuto fare la prova di questa durezza. Desidero ripetervelo ancora una volta e addirittura gridarvelo. È spesso più facile avanzare con una compagnia d'assalto che domare una popolazione nemica, di cultura inferiore. Fucilare, deportare, scacciare donne urlanti e piangenti, far passare attraverso la frontiera russa cittadini tedeschi e proteggerli. Dovete considerare l'attività degli uomini del servizio di sicurezza o della polizia di sicurezza come un compito indispensabile nel complesso delle nostre attività, esattamente come il vostro di marciare con le armi in pugno. Voi siete da invidiare, perché se voi fate qualcosa, se un reparto si copre di gloria, se ne può parlare ed esso se ne può vantare. In altre situazioni l'agire diventa talvolta ben più difficile. Con questo non voglio affatto svalutare i vostri sacrifici e l'importanza della vostra opera, ma vi assicuro che l'altra, quella che deve essere tenuta segreta, l'attività silenziosa è molto più ingrata. Credetemi. Già, perché si parlava già di fare una bella cosa. Come i tedeschi arrivavano in un qualsiasi villaggetto sperduto della Polonia, facevano subito una cosa. Radunavano il sindaco, il farmacista, il dottore, il parroco e il maestro della scuola locale e li ammazzavano seduta a stante, subito, eliminando le persone in grado di pensare eliminando la leadership, eliminando l'intelligenza. E contrariamente alle proteste della Wehrmacht, la Wehrmacht partecipò attivamente e con grande entusiasmo a questa mattanza. Anche perché oggettivamente, siamo sinceri, si parlava di circa 2.500, insomma, di 5 Einsatzkommando da 750 SS ciascuna. Ma la Polonia è grande. In ogni villaggio della Polonia, quando i tedeschi arrivavano, facevano immediatamente fuori 5 persone. Sindaco, farmacista, dottore, parroco e il segretario comunale. 5 persone, sempre, in ogni cazzo di paesino. Chiunque avesse una laurea, chiunque avesse una carica pubblica, chiunque fosse personaggio pubblico, politico o religioso, era destinato a beccarsi una palla in testa, se aveva fortuna, da parte delle SS e delle SD. Ma anche da parte di entusiasti reparti della Wehrmacht che non vedevano l'ora di collaborare con le SS. Sì, perché ci sono le prove della collaborazione della Wehrmacht con gli Einsatzgruppen. Ci sono, ci sono le foto. Avete presente le foto, le terribili foto del massacro degli ebrei di Vilna o di Vilnius, che dir si voglia. Le foto di quel massacro e le foto anche del massacro delle fosse di Babi Yar dimostrano che accanto alle SS degli Einsatzgruppen c'erano anche normalissimi soldati dell'Oher, dell'esercito. Carristi, genieri, fanti, addirittura musicanti che guardano a braccia concerte della strage, che sorridono, che applaudono, che a volte partecipano anche con entusiasmo al massacro. Anche perché oggettivamente lo sterminare il 97% della cosiddetta elite intellettuale polacca non lo fai soltanto con gli Einsatzgruppen. Non lo fai senza la complicità fattiva della Wehrmacht, che partecipò fattivamente e attivamente a quel massacro. Insomma, ripeto, è anche semplicemente una questione di logica. È una questione di logica. Si trattava un'azione così capillare, così violenta, così brutale, così definitiva, non poteva essere compiuta soltanto da un pugno di uomini delle SS su un territorio vasto come quello polacco. Ebbero dei complici. Le SS ebbero dei complici. Ebbero l'appoggio entusiastico di molta della Wehrmacht. Alcuni altigradi protestarono? Vero. Alcuni altigradi nel dopoguerra minimizzarono anche l'intervento della Wehrmacht nei crimini di guerra. Perché anche la Wehrmacht, nonostante questa leggenda diffusa con cura negli anni 50 da personaggi come Gehlen, come von Manstein, come von Rundstedt, per tenere immacolata la reputazione dell'esercito tedesco destinato a essere riformato e a servire come cuscinetto contro l'orso sovietico che premeva da oltre la cortina di ferro. Facendo anche dimenticare e ricordatevi l'armadio della vergogna, certe cose molto 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 brutte combinate proprio oibò non soltanto dalle SS ma anche dalla Wehrmacht, dalle normali forze armate, dall'esercito. Una su tutta e noi ne sappiamo dolorosamente qualcosa, Cefalonia. A Cefalonia a sterminare la divisione Acqui furono tedeschi di una divisione dell'esercito, del normale esercito. Ci sono le testimonianze più volte da citare sui comportamenti tedeschi. La Wehrmacht, le forze armate, commisero anche loro le loro pesanti atrocità. Ripeto, negli anni 50 circa, un gruppo di generali reduci dalla Seconda Guerra Mondiale iniziò a propagandare questa leggenda della Wehrmacht innocente dai crimini di guerra commessi dalle SS. Una bugia che ha funzionato molto bene per anni, che è stata presa per buona per tanti anni. Una bugia che però si è scontrata contro l'amara, cruda e dura verità dei fatti. Cefalonia. Noi a Cefalonia ne sappiamo qualcosa. Tavolicci di Verghereto ne sanno qualcosa. Ne sanno qualche cosa anche a Fragheto di Casteldelci, dove non c'erano SS, c'erano soltanto le truppe regolari dell'esercito. Che vi devo da dire? Cosa vi devo da dire? Le esecuzioni fatte in Polonia e dintorni sono regolarmente, sono seguite da rapporti statistici regolarmente inviati a Berlino. E la loro autenticità, conservata a Bad Arlsen, non è in dubbio. Allora ecco a caso qualche estratto di questi rapporti allucinanti. Roba per chi ha lo stomaco forte, vi avviso. Allora, Einsatzcommando 5. Dal 2 all'8 novembre 1941, esecuzione di 15 funzionali politici, 21 sabotatori, 414 ostaggi, 10.650 ebrei. Dal 16 novembre al 15 dicembre, esecuzione di 17.645 ebrei, 2.504 krimchates, 824 zigani, 212 tra comunisti e partigiani. Einsatzgruppe D. Dal 1 al 15 febbraio 1942, 1451 persone sono state sottoposte ad esecuzione, di cui 900 ebrei e 468 comunisti, 12 sabotatori e asociali e il totale è di 86.632. Il 31 marzo 1942, il totale è di 91.768. A. Einsatzgruppe 4. Nella regione di Kharkov, esecuzione di 11.328 ebrei. Einsatzcommando 4. No, scusate, Einsatzgruppe A. Al 15 ottobre 1941, 80.311 ebrei risultano giustiziati in Lettonia, 30.025 in Lettonia, 474 in Estonia. Einsatzgruppe C. Il 12 ottobre 1941, il solo Einsatzgruppe supera le 51.000 esecuzioni. Einsatzgruppe A. Al 1 gennaio 1942, nei territori dell'Est, ad eccezione della Russia bianca, completa l'eliminazione fisica degli ebrei con 229.052 esecuzioni. Allora, alcuni capigruppo come Otto Öhlendorf, Blume o Schubert aggiunsero nel processo al cospetto della Corte di Nuremberg che tutte le azioni furono realizzate senza incidenti. Ma chi sono questi criminali? Li si può vedere al banco degli imputati durante il loro processo dal 27 luglio 47 al 9 aprile 48. Sono 24 KPSS, tra i quali sei generali, Öhlendorf, Naumann, Joost, Rasch, Schulz e Six. Cinque colonnelli, Blöbel, Blume, Sandberger, Seberg, Steinle. Sei tenenti colonnelli, Biberstein, Braun, Hensch, Nusche, Ott e Stranchi. Quattro maggiori, tre ufficiali subalterniche e il più elevato in grado ed il più giovane degli ufficiali superiori aveva 40 anni al momento del processo e dai 34 ai 36 anni nel periodo degli stermini. Ed era anche il più intelligente, ossia Otto Öhlendorf che farà da portavoce e consigliere ai suoi coimputati. Otto Öhlendorf cercò di giustificare così il suo operato. Io non conoscevo i piani di sterminio degli ebrei, ma conoscevo la storia del comunismo e il modo in cui i bolshevichi avevano condotto la guerra civile, le guerre con la Finlandia e la Polonia e l'occupazione degli stati baltici, nonché la denuncia da parte della Russia delle convenzioni internazionali. Allo stesso modo in cui la classe nemica deve essere distrutta dall'esterno. A mio avviso il Reich si trovava in una condizione di urgenza e di legittima difesa e noi non avemmo la possibilità di giudicare serenamente la situazione. che è a dir poco agghiacciante, cioè scusate, il personaggio in questione dice in pratica eravamo pronti a sterminarli ma la colpa è stata loro. Agghiacciante? Io direi di sì perché come dire, la coda di paglia di chi viene pescato con le mani nel sacco a commettere un crimine terribile. I numeri parlano abbastanza chiaro, ripeto, sono i documenti ufficiali del processo di Nuremberg, un libro scritto da personaggi che di sinistra marxista non sono proprio, tutt'altro, tutt'altro. Ci chiede, c'è anche un passo del processo. Il procuratore Heath chiese al signor Ohlendorf che cosa successe ai bambini ebrei e zingari. Ohlendorf disse che si eseguivano gli ordini ricevuti, andavano ammazzati come i loro genitori. E il procuratore chiese volete spiegare al tribunale quale minaccia possibile costituiva un bambino per la sicurezza della Wehrmacht? Io non dovevo valutare il pericolo ma applicare l'ordine che specificava che tutti gli ebrei, compresi i bambini, costituivano un pericolo per la sicurezza. Io credo che le parole siano sufficientemente chiare, cioè le parole rendono abbastanza bene le idee che aveva la Germania per la Polonia e per i paesi slavi. Ohlendorf durante il processo descrisse la sua attività criminale con una totale indifferenza, incomprensibile al di fuori del contesto ideologico dell'SS. Questo tecnocrate della morte viveva in tutt'altro universo, diciamoci la verità, ed era un universo completamente diverso dal nostro, intellettualmente e moralmente. Ohlendorf scrisse In quanto agli ebrei il pretesto per raccoglierli era generalmente quello di una sistemazione nuova. Si confrontavano i nomi delle persone riunite con quelli che apparivano sulle liste di registrazione e si trasportavano le persone designate sul luogo dell'esecuzione con dei camion. A Sinferopol e a Nikolaev l'esercito aveva deciso che le esecuzioni avrebbero dovuto avere luogo ad una certa distanza dalla città e l'esercito a scegliere il luogo delle esecuzioni, prima prova della complicità della Wehrmacht. Dicevo, l'esecuzione aveva sempre un carattere militare, le vittime stavano in piedi o in ginocchio e i cadaveri erano sotterrati sul posto in modo tale da non lasciare traccia. I beni personali venivano confiscati ed i valori inviati al Ministero della Finanza o piuttosto alla Reichsbank. Nella primavera del 1942 Himmler diede ordine di uccidere le donne e i bambini mediante gas dentro i camion, in poche parole con i gas di scappamento. Questi camion potevano contenere dalle 15 alle 30 persone. La morte sopraggiungeva entro dieci minuti. La prima volta che si utilizzò un camion mi assicurai che la gente morisse senza difficoltà e partì. Quest'ultima frase pronunciata con tono neutro sconvolse l'uditorio. Ohlendorf sembrò non rendersene conto. Praticamente si parla del processo a questo personaggio. Praticamente spiega come la popolazione ebraica fosse pian piano, anzi neanche pian piano, fosse brutalmente eliminata una dietro l'altra dalle città conquistate. Praticamente la solita filastrocca era un ordine e si doveva obbedire fino alla morte. Diceva praticamente pensavate di dover eseguire un ordine del Führer senza tener conto del vostro consenso personale? E Ohlendorf rispose sì. Senza tener conto di ciò che a voi sembrava umano o inumano? Sì, altra risposta. Ritenevate di dover eseguire quest'ordine a costo della morte? Fino alla morte, naturalmente, fu la risposta di Ohlendorf. Procuratore Hitt, continuò Ohlendorf, in quanto soldato voi avevate ancora una coscienza morale che vi permetteva di giudicare gli ordini che ricevevate. Difatti avete rifiutato allora e rifiutate oggi di esprimere un giudizio morale. Ohlendorf rispose sì. Questo breve dialogo è detto tutto che davanti allo stesso tribunale di Doremberg che giudicava i grandi criminali di guerra da Goering a Hess a Rippentrop, il generale delle SS Erich von den Manzalewski che aveva guidato la repressione della lotta partigiana e aveva represso, aveva soffocato nel sangue la rivolta di Varsavia nel 1944, disse Questa lotta oltrepassava di gran lunga le necessità puramente militari. Molto spesso era, non era che un pretesto destinato a mascherare misure deliberate di sterminio. Se l'occupazione tedesca nei territori dell'est fosse durata qualche anno di più, questi metodi avrebbero avuto come esito l'annientamento di circa 30 milioni di individui, cifra questa corrispondente ai piani dei dirigenti itleriani. Un altro testimone, il generale Heusinger, confermerà puntualmente questa dichiarazione. Ho sempre pensato che il trattamento inumano delle popolazioni civili e di metodi abominevoli della lotta contro i partigiani non erano che un pretesto. I capi politici e militari vi vedevano un'eccellente occasione per arrivare alla riduzione sistematica del numero giudicato eccessivo di abitanti slavi ed ebrei. C'è altro da aggiungere, signori? C'è altro da aggiungere? Sì, c'è altro da aggiungere e ne aggiungerò in seguito, ma al momento accontentatevi di questo video diviso in due parti. Perché l'argomento è serio, l'argomento è pesante, l'argomento va affrontato con serietà. Lo sapete bene, io sono quello che cerca di, non dico sdramatizzare, ma di inserire elementi di, come dire, sarcasmo, spirito e di ironia nei discorsi. In questo caso mi riesce difficilmente difficile, mi essere molto difficile farlo, perché semplicemente abbiamo a che fare con la più spietata congrega di criminali mai visti. C'è roba da che fa impallidire i gulag di Stalin. Stalin era un dilettante al confronto di queste cose e fece cutting Stalin, ne sappiamo qualcosa. Che vi posso dire? Farò altri video su questo argomento che spero saranno interessanti e spero che si troverà da discutere per avere ulteriori informazioni, per avere ulteriori dati, per avere ulteriori dritte, per avere ulteriori capacità di analisi, per scoprire altre cose da analizzare su questa questione dello sterminio polacco. Tutto qua, uno sterminio previsto a freddo anni prima dell'invasione della Polonia con il caso bianco. Se l'erano studiata veramente bene, ma veramente bene. Più di questo non posso assolutamente dirvi. Quindi, cari signori, ripeto, aspetto le vostre considerazioni sui commenti del canale, fatevi sentire, fornitemi, come sempre, dati, informazioni, letture, bibliografia, notizie che possano confutare o confermare quanto dico. Per il resto, se volete farvi una cultura in proposito, ritiro fuori questi due libri. Gestapo, Operazioni segrete, volume primo, volume secondo. Ripeto, scritti da personaggi non propriamente di sinistra e appartenenti ad una destra tutt'altro che moderata. Quindi, pensateci un po' su a quello che dicono. Ripeto, le loro valutazioni sono interessanti e chiari, le dichiarazioni di Hitler e dei suoi gerarchi sono chiarissime, le loro intenzioni sono lampanti. non credo che ci sia altro da aggiungere. Quindi, cari signori, io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e arrivederci al mio prossimo video. Buonasera.